Alle 18, non c'è, su queste cose qua non mi piace giocare Ciao, quale capriole? Qua mani all'aria e capocciate contro il muro proprio Cioè, il cammino di Gigi D'Agostino non sono solo io Una gamba è la mia e una è la vostra e quindi si decide insieme La Grazie Grazie